Il 167esimo anniversario della Polizia di Stato, la cerimonia in diretta su TV Prato. Il 167esimo anniversario della Polizia di Stato, la cerimonia in diretta su TV Prato. È stato celebrato anche a Prato il 167esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia, trasmessa in diretta su TV Prato, si è tenuta stamani all'auditorium della Camera di Commercio. Per noi c'era Giulia Ghizzani, a cui cediamo la linea. Sì, grazie della linea. 167esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Ovviamente anche a Prato si festeggia questo importante traguardo. Questa mattina la cerimonia qui nell'auditorium della Camera di Commercio alla presenza delle autorità civili e militari. Il motto è esserci sempre e ci ha raggiunto il questore di Prato, il dottore Alessio Cesareo, a cui ovviamente facciamo intanto gli auguri per questa festa. Grazie, ringrazio voi di averci supportato e tutte le autorità che hanno partecipato, gli studenti che sono sempre una lieta nota, fatte di positività perché sono il nostro futuro e soprattutto sono le persone a cui tramandare i significati e i valori di questa festa. Ovviamente lo ricordiamo, c'è stata la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Capo della Polizia Franco Gabrielli. Durante il suo intervento lei ha fatto un po' un resoconto di quello che è stato l'anno per la Polizia di Prato. Quali sono i fenomeni emersi e quelli invece che hanno subito una flessione? Sì, abbiamo innanzitutto evidenziato come c'è stata una contrazione dei reati in genere e quindi questo va nella giusta direzione che guarda con auspicio gli investimenti che la Polizia di Stato ma anche le altre forze di Polizia hanno fatto su questo territorio. E quindi questo da un lato deve servire non solo a rassicurarci formalmente attraverso la percezione della sicurezza ma anche concretamente perché i numeri inequivabilmente danno questo risultato. E a fronte di questi dati però dobbiamo rilevare come alcuni reati per quanto riguarda la peculiarità del nostro territorio tendono ad una crescita. Mi riferisco tra i reati predatori ai furti in appartamento, peraltro in tendenza con ciò che avviene sul territorio nazionale, mi riferisco a reati che denotano il carattere della violenza e in particolare ho affrontato ciò che riguarda la violenza in ambito familiare. Abbiamo evidenziato come negli ultimi tre anni c'è stata una crescita pari al 50% e se agli inizi di questi rilevamenti veniva dato molto peso al fatto che provenivano da situazioni di coppie eterogenee, quindi con religioni diverse, con culture e valori diverse, oggi questo dato invece si assesta al 50% tra popolazione italiana e popolazione straniera. Ma il dato letto nella sua ottica più ampia non ci fa preoccupare perché riteniamo che non sia maturato un vero e proprio numero di reati maggiore ma che forse siamo riusciti ad intercettare maggiormente le persone che denunciano questi reati. Quindi con la creazione di uffici ad hoc, di unità specializzate, lavorare fianco a fianco con le associazioni che qui a Prato sono presenti e sono molto ben compenetrate nel tessuto sociale, siamo riusciti ad avvicinare le persone che effettivamente hanno bisogno di rivolgersi alla giustizia e di avere il vicino delle persone quando sono vittime di questi reati. Quindi sostanzialmente riteniamo che l'incremento sia un incremento di denunce e non di fatti. Ricordiamo che a breve arriverà tra l'altro un protocollo di cui avremo modo di parlare più avanti con la Prefettura per quanto riguarda il controllo del vicinato attraverso i gruppi di volontari cittadini che si danno una mano. Tornando invece alla cerimonia, tra i momenti emozionanti, la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per particolari operazioni e interventi e anche una dedica speciale delle note della pianista Giulia Mazzoni che lei ha voluto fare. Sì, intanto ho voluto rivolgere questo pensiero a tutti i caduti della Polizia di Stato ma essendo il 6 aprile la data in cui ricorreva il decennale del terremoto dell'Aquila ho voluto ricordare tutti i miei concittadini. Brevemente i prossimi obiettivi della Polizia di Prato. I prossimi obiettivi sono quelli di ampliare ulteriormente il controllo del territorio come abbiamo fatto sinora ed è un istituto nel quale crediamo moltissimo. Abbiamo avuto recentemente delle assegnazioni di personale molto giovane che sta conoscendo il territorio e che riteniamo possa dare il meglio delle conoscenze fra non molto e poi un altro dei fenomeni che riteniamo in crescita e che riteniamo di dover contrastare efficacemente non solo attraverso istituti giuridici ma anche con ritrovati tecnologici che sta scendendo in campo un po' dappertutto che è il contrasto degli stupefacenti e il traffico degli stupefacenti, un fenomeno emergente a Prato forse ancora di più che in altri luoghi ma siamo attrezzati per farlo e quindi promettiamo il massimo impegno anche in questo. Allora buon lavoro e ancora auguri al questore Alessio Cesareo e a tutta ovviamente la Polizia di Prato Grazie a voi e grazie della vostra presenza, insostituibile. E grazie a tutti voi, vi restituisco per il momento la linea. Ricordiamo che la cerimonia sarà trasmessa questa sera alle 21.20 su TV Prato parliamo adesso di abusi su minore, il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per la donna di 31 anni intanto è previsto per lunedì l'interrogatorio del ragazzo, ascoltiamo. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per la 31enne accusata di atti sessuali con minori e violenza sessuale nei confronti di un ragazzo, oggi 15enne, da cui ha avuto anche un figlio. Le motivazioni della decisione del Collegio dei Giudici saranno depositate nei prossimi giorni. Respinta dunque la richiesta degli avvocati difensori della donna Mattia Alfano e Massimo Nistri che avevano contestato le esigenze cautelari e manifestato ai giudici l'esigenza della 31enne di iniziare un percorso terapeutico presso uno psichiatra e di uscire di casa con il bambino di otto mesi. Attendiamo di leggere le motivazioni per comprendere la decisione, commenta l'avvocato Mattia Alfano, che si dice concentrato sull'incidente probatorio di lunedì, quando verrà sentito il 15enne, che secondo l'accusa è stato vittima di violenza sessuale da parte della donna fin dall'età di 13 anni e che è il padre del figlio avuto da lei lo scorso agosto. Proprio l'esigenza di evitare contatti e condizionamenti con la vittima e con altri testimoni, alcuni dei quali loro stessi minorenni, era stata alla base del provvedimento di arresti domiciliari chiesto dalla Procura di Prato con un termine di 90 giorni e accolto prima dal giudice per le indagini preliminari e adesso dal riesame. Secondo il GIP erano sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio, sia quello di reiterazione del reato, vista la pervicacia e astuzia con cui la donna, per quasi due anni, è stata capace di superare le resistenze del minore e gli ostacoli che di volta in volta si frapponevano alla realizzazione delle proprie pulsioni sessuali. Il 15enne sarà ascoltato lunedì al Tribunale di Prato sotto forma di incidente probatorio, porranno domande al ragazzo sia i difensori della donna, sia i sostituti procuratori, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, titolari dell'inchiesta. Lutto nel mondo dell'artigianato è scomparso prematuramente Luca Galli per anni segretario generale di Confartigianato, Imprese Prato. E' scomparso prematuramente all'età di 55 anni Luca Galli per anni segretario generale di Confartigianato, Imprese Prato. Galli si è spento ieri sera al termine di una breve ma terribile malattia. Fiorentino di nascita, laureato in economia e commercio, entrò in Confartigianato molti anni fa, ricoprendo inizialmente la carica di responsabile dell'area fiscale tributaria. Poi nel settembre 2008 divenne segretario generale dell'associazione, ruolo ricoperto fino a pochi mesi fa. L'allora consiglio direttivo lo scelse per sostituire Claudio Caponi, che lasciava per andare in pensione. Tutto il mondo di Confartigianato Imprese Prato esprime cordoglio e si stringe attorno alla famiglia di Galli. Sono stato partecipe all'individuazione di Luca Galli come nuovo segretario generale nel 2008, ricorda il presidente di Confartigianato Luca Giusti. Galli si è trovata ad assumere questa carica in un momento particolarmente critico e di profonda trasformazione dell'economia locale, con inevitabili riflessi sulla vita dell'associazione. Le sue competenze specifiche, sottolinea ancora giusti, sono state fondamentali per guidare l'associazione e portarla a superare le forti difficoltà di quegli anni. Le esecue di Luca Galli si terranno domani alle ore 15 presso la parrocchia di Santa Croce Alpino a Firenze. La salma sarà esposta nella stessa chiesa domattina a partire dalle ore 10.30. Rete in Prete Prato, in cui si riconoscono le associazioni di categoria, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA, consegneranno un documento ai candidati a sindaco del comune di Prato, con le richieste delle imprese da loro rappresentate. Tra i punti principali le infrastrutture e la fiscalità. Il documento racchiude il cuore di imprese che sono sia artigiane che commercianti che del turismo e dei servizi. Cioè noi praticamente qualsiasi tipo di impresa ha delle istanze che sono molto specifiche per il proprio lavoro, ma poi in realtà sono molto simili per quanto riguarda invece il quotidiano, il vivere quotidiano. Rete Imprese Italia, che a Prato conta 15.000 imprese associate, fa le sue proposte ai candidati a sindaco del comune di Prato. Le istanze sono condensate in un documento che sarà consegnato ad ogni candidato. Il primo capitolo riguarda le infrastrutture. Si chiede, tra le altre cose, di rinegoziare con i gestori dell'alta velocità ferroviaria nuovi collegamenti verso Milano e Roma. Da CNA si chiede di mettere l'acceleratore su opere come il raddoppio della declassata. È una necessità che deve essere risolta sia appunto per il collegamento anche di area metropolitana di Prato verso Firenze, ma ancora di più nel collegamento con l'interno e verso la realtà pistoiese. Sul fronte degli appalti pubblici, Rete Imprese propone di suddividere i grandi appalti in lotti per favorire le PMI locali e di riservare la partecipazione per una quota del 50% alle imprese che operano nella provincia. Nel documento c'è un'esplicita richiesta di impegno a non incrementare nessun tipo di tariffa locale per i servizi pubblici e a prevedere una fiscalità agevolata su nuovi insediamenti produttivi e start-up. Noi non vorremmo che, con la scusa che non dipende ovviamente dall'amministrazione umanale ma da altri fattori, si continui a fare pressioni in maniera veramente ormai insopportabile. Tra i vari candidati c'è un dipendente di ConfCommercio e nelle spada. Vi aspettate una maggiore attenzione da parte sua nei vostri confronti, nei confronti delle vostre richieste? Chiaramente noi abbiamo preso fin da subito la distanza per la nostra figura di imparzialità da un punto di vista politico e quindi non ci aspettiamo niente e non ci aspetteremo da un altro candidato. Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Firenze più di 40.000 accessori per telefonia e tablet con marchio CE contraffatto che erano stati stoccati in un magazzino a Serravale Pistoiese in un uso ad una società intestata ad un imprenditore cinese. Il valore della merce è di oltre 4 milioni di euro. Nel corso delle operazioni sono stati denunciati tre cittadini cinesi residenti a Firenze, Prato e Pistoia per i reati di contraffazione e frode in commercio e ricettazione. Sono state sequestrate anche numerose fascette adesive, recanti il marchio CE che venivano a poste sulle confezioni prima della commercializzazione che avveniva tramite canali web. Il blitz nella società, con sede ufficiale nella zona industriale di Pistoia, è scattato dopo un controllo in un negozio di accessori per telefonia nella zona dell'isolotto a Firenze. Il Consiglio Comunale di Prato ha approvato con 17 voti favorevoli e 10 astenuti l'ampliamento dell'edificio scolastico dell'Istituto Buzzi. L'intervento consiste in un ampliamento di circa 340 metri quadri affiancato all'attuale palestra ma indipendente dal resto del fabbricato e prevede la realizzazione di 4 aule per la didattica, un corridoio laterale e un gruppo di servizi. L'ampliamento fa parte di un più ampio progetto che prevede un aumento complessivo finale di 10 aule destinate alla didattica, una sala polifunzionale, due gruppi di servizi e spazi di distribuzione. Il Museo di Scienze Planetarie celebra anche i 500 anni di Da Vinci e i 50 anni dell'allunaggio con uno spettacolo che vedrà anche la straordinaria partecipazione di Tito Stagno, TV Prato e media partner del progetto. Scopriamone di più. Il genio di Leonardo da Vinci è l'impresa spaziale dell'Apollo 11. I 500 anni dalla morte di Leonardo e i 50 anni dalla passeggiata sulla Luna di Neil Armstrong sono il filo conduttore di Leonardo sta a Luna come 500 sta a 50. Il progetto del Museo di Scienze Planetarie che gioca con una straordinaria proporzione sul rapporto fra due innegabili grandezze e che porta a Prato lo spettacolo Luna e dintorni. Mattatore il famoso giornalista Tito Stagno che 50 anni fa realizzò la telecronaca diretta RAI dello sbarco sul satellite. Il sipario sull'avventura spaziale si alza a Prato domenica 28 aprile alle 17.30 al Teatro Politeama. È un evento quello che proponiamo unico nel suo genere perché verranno presentati sia brevi filmati preparati con finanziamenti della regione toscana rivolti alle scuole che in qualche modo esploreranno la vita di Leonardo e quello che Leonardo ha fatto in ambito scientifico in particolare per la Luna nello studio del volo e non soltanto quello che ha fatto Leonardo ma quello che poi gli esseri umani hanno fatto nel corso della loro storia fino appunto allo sbarco sulla Luna e a tempi più recenti all'esplorazione spaziale. I videodidattici animati da Massimiliano Mati di TV Prato, media partner del progetto visivo saranno protagonisti della prima parte dello spettacolo condotta da Marco Morelli e dalla storica dell'arte Alessia Cecconi. Seguirà il racconto di Tito Stagno che ripercorrerà quei momenti emozionanti, retroscene e le curiosità che animarono la corsa all'esplorazione del suolo lunare. Tito Stagno oltre che parlare di quella notte farà vedere un breve filmato in cui ripercorrerà tutte quelle che sono state le fasi dell'esplorazione lunare, della corsa alla Luna una vera e propria avventura in cui sono state impegnate decine di migliaia di persone letteralmente e un momento in cui per la prima volta davanti ai teleschermi, la televisione era nata da pochi anni si sono riuniti centinaia di milioni di persone. Lo spettacolo Luna e dintorni è gratuito ma con prenotazione obbligatoria e il biglietto potrà essere ritirato fino al 27 aprile al Teatro Politeama. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto, iniziamo dalle immagini da satellite, una perturbazione centrata sulla Corsica determinerà per oggi e per domani un aumento dell'istabilità. Ecco la previsione per il pomeriggio, rovesce temporali a carattere sparso più probabili sulle zone centro-meridionali della regione e in Appennino. Le temperature saranno stazionare, lieve diminuzione nei valori massimi. Uno sguardo alla giornata di domani, ancor più instabile. In mattinata possibilità di qualche pioggia sulle zone più occidentali della regione, poi tra il pomeriggio e la sera rovesce temporali a carattere sparso un po' su tutto il territorio. Temperature massime in diminuzioni. Bene è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e una buona giornata. E questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.